Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro un altro prodotto di ebay sempre per l'inverno e sono veramente contentissima dell'affare che ho fatto che poi io in realtà l'ho comprato l'anno scorso, però ve li mostro quest'anno perché comunque l'anno scorso non ho appunto aperto il canale quest'estate però dato che comunque secondo me è un prodotto veramente utilissimo ve lo voglio mostrare, infatti poi ci ho messo un pochino per ritrovare l'oggetto su ebay che avevo comprato però meno male l'avevo salvato tra gli oggetti osservati, quindi ce l'avevo in memoria e vi mostro appunto questi paio di guanti che sono appunto io l'ho comprato in neri e marroncino la cosa bellissima di questi guanti è che vedete queste tre dita? sono di un altro colore e poi sono fatte di un altro materiale che io ovviamente non so il nome, che vi permette di utilizzare il telefono cioè io quando ho scoperto questa cosa sono rimasta veramente contentissima sapevo che c'erano sapevo che c'erano comunque dei guanti che venivano utilizzati anche per il telefono però cioè pensavo veramente che costassero tantissimo io mi ce l'ho pagata in ore e trenta e cioè sono veramente contentissima anche questo qua è nero non si vede perché comunque è tutto nero però appunto ha le le tre dita sì, le tre dita finali con le quali possiamo utilizzare il telefono e io veramente sono contentissima cioè adesso vi faccio vedere questo qua è il telefono cioè adesso vi digito un numero così potete capire un numero qualsiasi quindi farvi vedere appunto che funzionano perché magari visti così sarei un po' scettiche e vi capisco perché poi io ho detto beh da compriamoli speriamo che funzionano però e fortunatamente funzionano dai cioè secondo me è veramente un'invenzione fighissima perché ogni volta se uno deve cioè col freddo cane uno per utilizzare il telefono si deve tagliare i guanti in questo punto io per come sono freddolosa preferisco se non utilizzo il telefono e tenermi i guanti addosso perché cioè sono affrettantissimo il freddo e quindi niente appunto io ho comprato due paia e ci sono anche grigi e anche blu quindi c'è una vasta gamma di colori alla fine giù nell'info box vi lascio il link e l'ho pagato un euro e trenta cioè un euro e trenta un euro e trenta fa poco di seconda il caffè quindi c'è un paio di guanti nemmeno per farli cioè sono veramente contentissima poi mi piace anche la trama perché la trama è differente è sempre serie autunnale neve perché qua per esempio ha un fiocco di neve e invece qua ha delle renne e secondo me sono veramente carinissimi poi sono simili allo stile tipo dei guanti di Sabdu Brandy Melville che costano non lo so quanto costano ma nemmeno lo voglio sapere perché costano veramente tantino le cose di questi negozi infatti io compro tanto quando ha scontati i saldi perché altrimenti non compro secondo me sono una varia alternativa a quelli appunto a quelli lì che costano un po' di più molto di più questo è una retrente infatti ha comprato due paia e niente ragazzi sull'info box come voi sapete sempre vi lascio il link a spedizione è gratuita ma vedrò già lo sapete quando non è spedizione gratuita vi avviso sempre e comunque voi trovate anche scritto nel titolo e niente vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video io